La volontà di acquistare il Catania c'è. Bisognerà capire modi e modalità, visto che ancora si attendono i deferimenti e quindi le decisioni della giustizia sportiva. Lunedì potrebbe essere un giorno importante per il futuro societario, con una cordata di imprenditori interessata a rilevare il club e il vertice. Sarà coordinato dall'assessore comunale Girlando, che insieme al sindaco Enzo Bianco sta seguendo tutte le fasi per l'accessione della proprietà. Al tavolo dovrebbe sedersi anche l'ormai ex patron Pulvirenti. Sull'operazione vige il massimo riservo, meglio concentrarsi sulle storie di campo. Giuseppe Pancaro è il nuovo allenatore e il primo ed importante tassello di un puzzle assai difficile da completare. L'ex terzino di Lazio, Milan, Fiorentina e della Nazionale, sta già lavorando al fianco di Pippo Bonanno per costruire la nuova squadra. Senza il campionato di riferimento però risulta complicato muoversi sul mercato. Per questo motivo la dirigenza etnea sta operando prevalentemente in uscita. Perde ancora pezzi la colonia argentina, ormai ridotta a pochissime unità, con Rinaudo ed Escalante pronti ad accasarsi rispettivamente al Gimnasia La Plata e all'Eibar. In questa foto la firma di Escalante, che sancisce il legame con il club spagnolo. Valigie pronte per Spolli, corteggiato dall'Empoli, Ghiomber, conteso da Sampdori e Palermo, e per Belmonte e Del Prete, che potrebbero continuare a giocare insieme nel Perugia. Richiestissimi anche Maniero, Calaglio e Rosina, con il fantasista calabrese, che potrebbe essere l'unico big a restare rossazzurro anche in Lega Pro. Ed in entrata l'unico nome che circola con insistenza è quello di Davide Baiocco, fresco di promozione con l'Akragas. L'esperienza del biondo centrocampista servirà più in campo che dietro la scrivania. Per questo motivo il ruolo in dirigenza potrebbe essere congelato di un anno. Per l'attacco piace Elvis Abruscato, 34 anni, svincolato, finito nel mirino di una decina di squadre di B e Lega Pro, tra cui l'Akragas.